Lorenzo Ariaudo, intanto benvenuto ad Empoli. Non è mai semplice cambiare casacca, cambiare squadra nel mercato di gennaio. Arrivi in un Empoli che sta veramente bene. Quali sono le tue primissime sensazioni in questi primi allenamenti? Le sensazioni sono molto positive perché, come dice tu, non è facile, però mi hanno accolto subito bene, compagni, mister, direttore, presidente. È come entrare in una famiglia, il clima è molto sereno. Cercheremo di dare il meglio, di farmi trovare pronto subito. Sono contento comunque di essere venuto. Che giocatore è Lorenzo, al di là che sappiamo sei un difensore centrale, Mancino? Ma sì, è un giocatore, dovrete poi dirlo voi, dai. Io mi metto a disposizione e basta. Di te si è parlato un gran bene ai tempi della Juventus, quando eri nel vivaglio bianconero, poi il Sassuolo, ultimamente qualche presenza in meno. Cosa è successo? Sì, l'anno scorso ho avuto un brutto infortunio, mi hanno parlato di ernia del disco, quindi fortunatamente è passato, ho avuto quel problema lì e niente, ho fatto il mio percorso, comunque sono contento di quello che sto facendo, di quello che ho fatto. Si può sempre far meglio e sono qua a posto per fare meglio. Arrivi con la formula del prestito con delitto di riscatto, ma il Sassuolo ha voluto mettere il contro riscatto a dimostrazione che insomma non ti hanno sdoganato, ma anche loro come l'Empoli credono molto in te. Sì, con il Sassuolo comunque c'è un ottimo rapporto, poi è normale, adesso io avevo bisogno di cambiare, adesso ho cambiato, sono felice e penso all'Empoli appunto. Mister Gianpaolo che ti ha detto? Ma ci siamo un po' confrontati sul metodo di lavoro in fase difensiva che usavo a Sassuolo, infortunatamente molte cose che usa il mister, le usavo con il mister Lopez ai tempi del Cagliari e ci stiamo trovando bene. Ti piace come difende l'Empoli? Molto, molto, molto. È particolare, dà soddisfazione secondo me andare ad attaccare così la profondità, partire quasi da centro campo insomma? Sì, sì, è un metodo che comunque a Sassuolo usavamo anche noi abbastanza la linea alta, lavoravamo molto con la palla, con come si muove la palla, quello è l'input principale e poi la difesa si muove di conseguenza. Fisicamente come stai? Bene, bene. Pronto quindi già per poter giocare, magari perché no, con qualche minuto già a Bergamo in una gara non semplicissima? Sì, no, è sempre come detto tu, è un campo ostico, un campo difficile, però sì, sì, sono pronto e sono a disposizione del mister. Senti, per chiudere, quali sono le tue aspettative per questo lasso finale di stagione? Le mie aspettative sono quelle di dare una mano all'Empoli, di chiudere il campionato nel migliore dei modi, sono arrivato che ha fatto già un ottimo campionato, bisogna cercare di rimanere nella parte sinistra della classifica e poi tutto quello che verrà ce lo prenderemo con gusto.